Di qua, di qua, di qua. Ancora un attimo. Sergio, un attimo. Sergio, un attimo. Un'attimo. Una stelta di mano. L'interazione di dopo, dai. Un attimo. Bocca al lupo, buon lavoro. Ok. Allora, grazie della vostra presenza qua. Aspetta che inserisci il microfono. Nel giro di questa settimana credo che chiuderemo. In modo da poter consegnare poi agli uffici nominativi per le verifiche burocratiche. Tra la fine di questa settimana, lunedì prossimo, potrebbe anche tecnicamente essere il giorno giusto della convocazione. Però ci lavoriamo da oggi pomeriggio. Diciamo che in questa settimana si può chiudere il merito e la forma potrebbe essere lunedì prossimo. Voglio ringraziare Sergio perché per me questo era un momento importante. Era un momento importante farlo proprio così come lo stiamo facendo adesso. Cioè che ci fosse un momento in cui insieme si potesse annunciare questo inizio di questo nuovo mandato che come io ho cercato di dire sempre e ribadisco anche oggi che racconto delle cose buone fatte nel passato e naturalmente le manterrà cercando di affrontare le varie problematiche che ci sono e di cambiare le cose che evidentemente potranno essere cambiate e potranno essere migliorate. Ma questo senso di cambiamento e continuità nel buono e cambiamento nelle cose da cambiare io credo che sia plasticamente anche rappresentato questa mattina. Quindi ti ringrazio Sergio di aver dato la disponibilità di essere qua per questo momento e ti ringrazio da neopresidente della Regione Piemonte per tutto il tuo impegno per tutto il lavoro di questi lunghi, complessi e anche difficili anni da governatore. Ho detto ad Alberto e al Presidente Cilio che sono ragionevolmente certo di consegnare una Regione con i conti a posto sia in sanità sia nel bilancio generale come penso la Corte dei Conti certificherà parificando nel prossimo mese o a giugno nel prossimo mese di luglio. I progetti strategici con cui abbiamo lavorato sono noti quindi non è il caso di ricordare qui e non era neanche il caso, ci siamo riscambiati qualche opinione, è evidente che da d'ora in avanti chi ha la responsabilità, l'onere e l'onore di guidare questa Regione avrà l'onere e l'onore di portare avanti quello che riterrà il più opportuno nell'interesse del Paese, del Paese e della Regione. Vedi mi sono già allargato. Per il resto in bocca al lupo nell'interesse del Piemonte è disposto nei ruoli che potrò avere a dare una mano per quel poco che potrò ancora fare o in consiglio oppure dal consiglio. Sono fermo al comunicato in cui ho detto che sto verificando e verificherò modalità e tempi per lasciare il seggio in un signor regionale con la coalizione. Posso escludere che Alberto Ciglio mi offre un po' di giugno.